ITS Cosmo è un'importante fondazione nel mondo del fashion che spazia nei più diversi ambiti del tessile, della moda, della calzatura, dell'occhialeria, dell'oreficeria, delle borse. Sono presidente di Confindustria Padova settore moda e come imprenditore collaboro con le più importanti aziende del lusso. Per rispondere alle esigenze delle aziende la fondazione Cosmo si avvale della collaborazione di docenti provenienti dal mondo universitario e dal mondo imprenditoriale. La sinergia e la collaborazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro è sicuramente molto importante soprattutto in questo momento in cui le competenze richieste sono molto varie. Il Cosmo mi ha dato la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro, infatti nell'azienda in cui mi trovo oggi io lavoro direttamente con un programma che ho imparato ad usare durante il corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno del mondo del fashion ci sono molte professioni che richiedono capacità che devono essere spiegate, studiate e messe in pratica, che è fondamentale per riuscire ad avere una minima base di esperienza e linguaggio comune per iniziare un percorso lavorativo. Un'altra cosa molto importante è che essendo la loro formazione flessibile consente l'inserimento lungo tutte le fasi del processo sia di sviluppo prodotto che della successiva produzione. La cosa che mi è piaciuta di più è che i docenti venivano dall'ambiente universitario ma soprattutto dalle aziende del settore. Le competenze che ho acquisito a scuola per la realizzazione di una collezione rendono più proficuo il mio lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie agli stage curriculari e ai percorsi di project work fatti in collaborazione con le aziende stesse, i ragazzi riescono ad entrare in empatia con i nuovi linguaggi che le aziende richiedono. E' anche per questo motivo che invito tutte le aziende della filiera del settore del fashion ad unirsi alla fondazione per dare le migliori opportunità ai nostri ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.